Si ferma a Giulianova, la straordinaria striscia del capistrello che cede l'intera posta ai padroni di casa che con molta maturità supera un esame dall'elevato quaziente di difficoltà. Prima frazione di gioco vivace, si fa per dire nei primi 20 minuti ma niente di che. Si considera tale per il gioco di palla e i tocchi che superano il numero lecito della decenza. Portieri niente affatto impegnati, Giulianova che prova al decimo, tocco di Sissè per Traini che scarica in diagonale alto, radiocontrollato dal braccio dell'estremo Granata. Al 32esimo si fa male Fantauzzi nel capistrello rilevato da Cipriani, poi una serie di tocchi proibiti e gioco interrotto da entrambi i fronti al limite della irritazione con il contorno di alcuni gialli e il solo rasoterra di Giglio al minuto 40 che impegna in due tempi di Gerolamo che evita la corrente africani. Quattro minuti di recupero e primo tempo bruttissimo in archivio. Nella ripresa subito l'episodio che deciderà l'esito della gara. Minuto 4 Sissè lavora per se stesso un gran pallone che poi decide di donare deliziosamente a Buonavoglia che beffa così di Gerolamo. È l'1 a 0. Iniziale e finale. Gara che si anima immediatamente e si alza di ritmo. Minuto 8. Fantozzi chiama in causa da lontano Bocca Nera. La risposta giallorossa è di Sissè che prova ad individuare il 7 di di Gerolamo. Al diciassettesimo azione confusa in seguito ad angolo con girata di africani debole ed alta. Entra Quino nel capistrello capocannoniere ma servirà a poco. Nel finale i marsicani falliscono. Il pari con Rozzi che dagli sviluppi di calcio da fermo manda alle stelle sotto misura. In verità al novantesimo ci prova anche De Roccis che però viene fermato solo da Bocca Nera. Allora mister, gara difficile, vittoria importante, soprattutto maturità da parte della squadra. Bravo. Condivido l'ultima frase, la maturità della squadra. Perché magari si è nascondato diversi passaggi ma questa frase è quella che in questa partita racchiude un pochettino quasi tutti i discorsi. Una partita così vinta 1-0 con una squadra in salute che il capistrello veniva da diversi risultati positivi tra cui quello dell'Avezzano che sono in bandaggio 2-0 messo in difficoltà. Quindi è una partita di maturità che mi fa piacere nel senso che mi dà ben da sperare con questo gruppo. È un gruppo fantastico, è un gruppo che gli piace lavorare durante la settimana. Il loro modo di giocare e di approccio alla partita lo vedono tutti. Andrea Capodacqua, preparatore dei portieri. Grande gara, solo l'invenzione. Vi ha messo giù per una partita in cui siete stati dentro fino all'ultimo minuto. Eh sì, quella disattenzione all'inizio del secondo tempo ci ha penalizzato più del dovuto. Noi abbiamo fatto l'ennesima gara tosta-gagliarda da parte dei nostri ragazzi a cui va i complimenti di tutti, dello staff, della società. Siamo orgogliosi di loro, non devono in questo momento abbattersi perché sì, è vero, abbiamo fatto una grandissima partita. Però alla fine, ecco, quando perdi in questo modo c'hai tantissimo rammarico perché se andiamo a vedere tutta la partita il nostro portiere è rimasto praticamente inoperoso. C'è stata quella uscita sbagliata che purtroppo lì ci ha penalizzato anche la bravura loro. Insomma, negli inserimenti, lo sapevamo, squadra giovane, Giulianova, squadra tosta, gioca bene. Merita il posto che ha, ma noi come ripeto i complimenti li facciamo in toto alla nostra squadra perché sono 5-6 partite che ci stanno veramente rendendo orgoglioso, dando delle grosse soddisfazioni. E questo va tutto a loro favore. Bravi ancora.